Buongiorno, sono Riccardo Monco, lo chef dell'Enoteca Pinchiorni di Firenze. Anche noi parteciperemo alla giornata della ristorazione. Io sono Alessandro. Io sono Fabio. E noi siamo il gruppo Aino e Nadia e siamo onorati di partecipare alla giornata della ristorazione 2023. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Anche noi del ristorante Forghetti partecipiamo alla giornata della ristorazione. Sono Cristina Bauermann, chef patron del classio Asteria a Roma e sono molto felice di partecipare alla giornata della ristorazione il 28 aprile 2023. Buongiorno a tutti. Buongiorno, sono Simona Ferretti. Anche lasagna tiramisù partecipa alla giornata della ristorazione. Buongiorno a tutti. Sono Roberto Costa del ristorante Macellaio a Londra che partecipa alla giornata della ristorazione. Il 28 aprile sarà la giornata internazionale della ristorazione italiana. Una festa in più, un giorno in più, un'idea in più, un motivo in più. Un motivo di grande orgoglio per tutti gli uomini e le donne che fanno quel lavoro pesantissimo che si trasforma in un momento di gioia per la nostra vita. Perché io personalmente a tavola, in un ristorante, in una trattoria, in una pizzeria, ci vado con i miei amici. Ci vado con le persone che amo. E allora questa giornata internazionale della ristorazione italiana diventa una giornata dove tutti ci vorremmo bene. Grazie di cuore.